L'Italia è in ripresa, almeno secondo molti dati economici. Il ministro Calenda, dal meeting, indica la possibile strada del rilancio. E l'Italia da riguadagnare è il posto che gli spetta nei grandi paesi occidentali, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale. Per Scholz, presidente della Compagnia delle Opere, il nostro paese ha una grande potenzialità ma, dice, non è cosciente. Come se l'Italia mancasse l'autocoscienza del bene che ha al suo interno, delle grandi potenzialità che ha. Senza questa coscienza è impossibile affrontare la crescita, perché la crescita prima di tutto è un problema culturale, un problema di autocoscienza, della capacità di conoscere i propri talenti e le proprie capacità. Una fase che ha bisogno di un radicale cambiamento culturale, bisogna però capire il processo di evoluzioni attualmente in corso. Capire quello che accade e accettare la radicalità di un cambiamento che ha una velocità mai sperimentata prima ha una grande complessità. Ecco, tutti questi elementi stanno dentro la fase di Goethe, credo.